La verità è che io volevo parlarti perché ho bisogno di una consulenza per promuovere il mio di libro, perché ti ho visto alla grande, ma non solo ieri, anche prima, nei giorni precedenti hai spaccato su Amazon. Sì, perché ho voluto, diciamo, concentrare, il libro è in pre, il libro sulla scienza delle verdure è in prevendita da giugno, credo, prima ancora che lo finissi, ho finito a settembre, però io non l'ho mai annunciato sui social, ho cercato di concentrare, diciamo, l'hype nella settimana prima dell'uscita fisica e devo dire che ho guardato religiosamente il video che tu hai fatto con Francesca Cavallo che ha spiegato tutto il piano editoriale, un po' in minore ovviamente, però mi sono fatto un piano io dicendo, allora, con le mie varie community, quindi su Instagram, su blog, su Facebook, su YouTube e così via, e l'ho detto, vabbè, allora inizio a farlo sabato e faccio delle storie, poi domenica metto il post su Facebook, martedì il video su YouTube in cui lo lancio e così via, in modo tale che si è concentrato in pochissimi giorni tutte le prevenite e questo l'ha fatto arrivare in primo in classifica generale di Amazon, tanto è vero che purtroppo, ma devo dire che, insomma, ovviamente mi fa piacere, Amazon non è riuscita a soddisfare, quindi temporaneamente è andato in autostock, hanno dovuto fare una ristampa di altre 8000 copie velocissima per riuscire a soddisfare le cose, per cui... La scienza delle verdure, la chimica del pomodoro e della cipolla, cioè se tu mi avessi detto, Monti, allora farò un libro sulla chimica del pomodoro e della cipolla e sarà il primo in classifica, ti dico, ma non fare cazzate... E' la potenza dei social che a un certo punto i numeri sono tali, poi tu ce l'hai dieci volte nella mia community, quindi non sono io che ti devo dare così... Nel momento sto, diciamo, non sto spingendo molto, però non so, non sta ingranando come vorrei e quindi sto ragionando su quali siano le... Però appunto i numeri sono tali che uno si chiede ma che cosa mi serve una casa editrice, no? Perché per alcune cose serve, almeno nel mio caso, i miei libri, questi qui sono... non riuscirei a farli da solo, almeno perché ci vuole la fotografa, ci vuole la parte grafica, ci vuole tutta una serie di altre cose di cui... Adesso non ho voglia di sbattere, però se dovessi fare un libro che è puramente, non so, un saggio, me lo scrivo, quindi è solo un testo... E a questo punto uno dice, fai due conticini e dice, cavoli, io riesco a raggiungere, ho 350.000 follower molto, diciamo, focalizzati, no? Su YouTube, sono a 200.000 su Instagram, sono pubblici diversi, sono cento e passa mila, insomma, medialmente probabilmente raggiungo mezzo milione di persone che sono interessate a quella roba lì... E quindi, cioè, sono numeri in cui vado oltre quello che può raggiungere normalmente una casa editrice con le pubblicità generaliste, con i suoi giornali, così via... E uno dice, cavoli, allora, il libro ha prezzo di copertina, però me ne rimane in tasca 8-10% del prezzo di copertina, poi ci devo pagare le tasse... E dice, allora tutto il resto? Cioè, quale altra fetta posso riuscire? E quindi, boh, magari in futuro ci farò qualche ragionamento... Io ho fatto il calcolo... Eh, eh, ma non dubitavo... Ho fatto il calcolo, ma più che altro, a prescindere dal lato economico, che è abbastanza secondario, perché se vuoi fare, se vuoi fatturare, fare utili veri sui libri, devi fare, insomma, numeri importanti... Hai visto Jordan Peterson, no, l'intellettuale canadese, il bestseller suo è Twelve Rules for Life, bestseller mondiale, lui in questo momento fa 120 mila dollari al mese... Vabbè, questi sono altri numeri... Un revenue pubblicato con un editore, no, quindi immaginate quanto stanno fatturando su quel libro lì, però se invece vuoi fare, diciamo, è più un esperimento imprenditoriale per quello che mi riguarda, il ragionamento che abbiamo fatto è stato, ok, al posto di andare con uno degli editori che era possibile rifare, insomma, con lo stesso editor... Tu l'avevi già fatto? Sì, sì, o con altri, facciamolo noi, lo stampiamo, cioè lo scrivo io, scrivo io, poi sono pessimo a scrivere, quindi l'ho detto io e poi qualcuno mi aiuta a scriverlo perché io gli accenti non so metterli, e non solo, anche i punti... Vabbè, un editor comunque ci vuole comunque, cioè una casa editrice ti dà un editor e anche se io decidessi di fare una roba in futuro completamente da solo, devo comunque pagare... Un editor che te lo sistemi con correzione di bozze, quelle robe lì, poi lo stampiamo, lo mandiamo nei magazzini di Amazon e Amazon lo vende e fa la logistica, abbiamo fatto peraltro uno studio molto approfondito, Paolo ha fatto su tutte le alternative, anche da dire faccio l'e-commerce io e me lo vendo tramite un accordo con il corriere vario, è impossibile, cioè Amazon oggi è un'altra categoria rispetto agli altri, Anche perché hanno la possibilità di fare print on demand, nel momento in cui non hai il libro disponibile fai print on demand e copri mentre lo stai ristampando, a quel punto quello che ti resta in tasca comunque è molto di più, cioè io ho fatto il calcolo, se vendo 10.000 copie guadagno quello che guadagno a vendere 70.000 di là, cioè non ha senso, no? Chiaramente più uno sbatti ha senso se ha una piattaforma, se tu hai una piattaforma di promozione, quello sì. L'altra cosa incredibile di Amazon secondo me è la capacità predittiva, cioè loro in base a quanti preordini fai, al giro del fumo ti dicono, guarda stampane... Nel mio caso hanno sbagliato, perché ne hanno ordinati troppo pochi o forse non si aspettavano che io facessi comunque... Però in quel caso... Sono rimasti out of stock ieri... In quel caso c'era un editore, giusto? Sì, sì, ma ho parlato con l'editore e loro, Amazon, in base ai miei vecchi libri precedenti... Ah, ok, hanno fatto sullo storico. Che però erano uscite tre anni fa, nel frattempo io ho aumentato di qualche centinaio di migliaia di persone e quindi ne hanno ordinati pochi e quindi ieri, che era il giorno d'uscita, sono risolto. E quindi hanno dovuto fare un refill super veloce, però sì, tendenzialmente... In linea di massima hanno talmente tanto dato che ti dicono, guarda, più o meno stampane X che ne vendiamo, Y, più o meno lo sanno. Però sai, è diciamo da sperimentare, per me sono esperimenti da provare... No, no, ma è una cosa secondo me molto interessante e tra l'altro, così, a livello globale, su tutta l'industria editoriale, mi chiedo cosa succederà fra dieci anni o vent'anni, ma anche magari prima, perché tu, vabbè, tu ogni due giorni fondi una startup, no? Così. Per cui, vai, io non ho intenzione di farmi tutto lo sbattimento, perché il mio mestiere è un altro, io insegno all'università, faccio ricerca, faccio le mie robe, ecco. Però mi chiedo se, magari ci sono già e non lo so, ma se in un futuro ci possono essere delle entità, delle società, che, diciamo, sono molto più agili degli editori, che fanno quello che stai dicendo tu, cioè, io ti offro a te, potenziale autore, un editor che te lo controlla, un qualcuno che ti fa la fotografia e ti fa la copertina, mi sbatto io, trovo io chi mi stampa, ma non sono io che me lo stampo, e poi io le mollo ad Amazon, a te, autore, ti do, non so, il 25%, il 30%, Amazon si... Quindi saltare tutta una serie di costi fissi che invece adesso le case elettrici hanno per motivi storici. Quindi mi chiedo se, prima o poi, magari ci sono già, ripeto, non lo so, però... Io non l'ho trovato, a me sarebbe piaciuto... Perché secondo me è sensato, no? Perché, come dici tu, Amazon, che poi odiatissima da alcuni, amatissima da altri, ieri un sacco sui social mi hanno criticato perché ho parlato di Amazon, e mi hanno detto... I lavoratori li sfruttano... No, non per quello, diciamo, supportate le librerie fisiche, cosa che io sono assolutamente favorevole, ci sono però un sacco di paesi in Italia dove non esiste più la libreria o non c'è mai stata, o gente che mi compra dall'estero, quindi è impossibile prescindere da Amazon o comunque dall'e-commerce. E dall'altro lato, sai, il mio ragionamento è, sì, io adoro le librerie fisiche, supporto, però supportiamo anche gli autori, no? Perché se no, cioè, io, come dire, mi fa piacere scrivere un libro che supporta l'editore, il distributore, le librerie fisiche e poi faccio tutto io e a me resta il 10%, c'è qualcosa che non funziona in quel meccanismo. Anche perché se tu hai studiato un po' il mercato editoriale e così via, di come funziona, in realtà il grosso, di solito, il grosso dei guadagni arriva al distributore, che prende fisicamente i libri dall'editore, li porta là, prende i resi, si c'è il magazzino... Giustamente, è un'impresa fare quella roba lì, non è facile. Esatto, quindi gli editori non è che navighino nell'oro, per cui se c'è qualche cosa che può permettere di bypassare, almeno in parte, questa cosa qua, è Amazon, cioè, con i numeri che ha, è una potenza. Vedrò come funziona, perché è un'ipotesi... Ecco, sono molto curioso, perché magari qualche esperimento magari lo farò, non in grande, ma per vedere un po' come gira il fumo. Mi piaceva, Dario, l'idea di sperimentare, come sempre un po' su di me, un processo, e poi se è un processo potenzialmente che funziona, a quel punto magari crearci un'azienda sopra che dice, ok, vado da 20 persone che hanno un ottimo seguito in Italia e vogliono pubblicare un libro, e gli metto a disposizione tutta quella roba lì, e uno non deve stare a inventarla da zero. Bisogna vedere se i numeri tornano, se ha senso, non lo so, te lo saprò dire, perché al momento non vedo grandi numeri, in generale poi non è facile neanche lavorare con Amazon, per quanto siano molto disponibili, e chiaramente c'è gente in gamba, però non è facile a livello di macro azienda, perché comunque è un colosso che ha i propri interessi, e quindi tu sei un piccolo autore, Montemagno, insomma, non è che l'azienda può girare intorno a te. Però, insomma, è senz'altro un esperimento interessante, secondo me, da fare. Anche le librerie, cioè, il concetto, ti ricordi, la Francesca Cavallo diceva, alla fine le librerie ci chiamavano per ordinare i nostri libri. Ma quello funziona però se c'hai il caso editoriale della Madonna, no? Per cui... Però se tu dici ai tuoi, della tua community, ragazzi andate a chiedere il libro nella libreria di Roma, vanno magari, non so, 3.000 persone, una volta che c'hai 3.000 persone tu sai che quel libro lo vendi, se compri 20 copie le vendi quelle 20 copie. No, no, certo, certo. E lì non c'è più il reso o queste cose qua. Però, diciamo, è un mondo interessante da esplorare. No, no, sono curioso di vedere come funziona il tuo esperimento, perché tu avevi pubblicato un libro, invece, cos'era, per Mondadori? Mondadori, sì, sì, sì. Che era anche stato criticato, perché... Un libro pessimo. Cioè, diciamo la verità, è una trascrizione dei video. Perché è una trascrizione, sì. Questo, invece, onestamente, è carino. Me lo sono riletto... Che è sul lavoro? È sul lavoro, è l'argomento del lavoro. Sì, ho visto il post su Instagram. Queste cose qua, però, onestamente l'ho letto, ho letto, insomma, carino, bravo questo autore. Perché... No, ma, come dire, per quella categoria di libri lì, no? Cioè, per me i libri sono o i libri veri, dei grandi autori, oppure i libri così. Questo qui è un libro, per me, di quella categoria... Ma i libri sono libri, hanno una loro dignità. Adesso non è che devi essere per forza quello che vende un milione di coi, la Rowling, e tutti gli altri non va. Cioè, sono libri. Cioè, sono un modo per, così, dare le tue idee, il tuo pensiero, dare qualche cosa a chi ti vuole leggere. Se vuole leggere. Però alcuni libri, insomma, sono... Li vedi, dici, cazzo, che bel libro. Altri libri sono, diciamo, di business, informativi, ma anche libri che hanno venduto milioni di copie. Cioè, Padre ricco, Padre povero, non so, di Chiyosaki. Cioè, ha venduto milioni di copie, ma è un libro così. Insomma, sì, ti dà tre informazioni. Rientra in quella categoria di libro di business. Tu sei avvantaggiato perché scrivendo di cipolla e pomodoro aiuta... Però lì il mercato è molto saturo, no? Perché se tu vai in una libreria, trovi una sezione intera dedicata al cibo. Sì, no, ci sono dei libri dedicati al pomodoro. Al pomodoro è facile, ma anche, non so, agli ortaggi più strani, le cose. Quindi il mercato è molto saturo. Ma perché è saturo? E io devo trovarmi la roba... Vabbè, il mio approccio è quello scientifico, è la cosa che non c'era prima. E' per questo che i miei libri attirano e danno qualche cosa che in altri libri, almeno in Italia, non si riesce ancora a trovare. Ma se io scrivessi un classico libro di ricette, anche se mi chiamo Bressanini, non me lo comprano perché devo comprare un libro normale di ricette e mi compro quello di... Però avrei pensato, quando ho visto che usciva il tuo libro, avrei pensato a un libro... La verità, il dietro le quinte del... E sono molto contento in realtà che non l'hai fatto e sei uscito con un testo così. Perché quello era facile, però avresti probabilmente venduto dieci volte di più. Allora, io in realtà ho due linee editoriali mie, perché mi piacciono entrambe le cose. Una è quella appunto del saggio classico sul disinformazione alimentare, sul ti racconto quello che non ti vogliono far sapere, ma davvero, non quelli di bufali, di bufalare. E poi invece ho la parte più di cucina scientifica, cioè ti spiego come fare un ragù come Dio comanda, sempre con gli occhi della scienza. E quindi, siccome mi piacciono tutte e due, di solito alterno. Quindi l'ultimo libro che ho scritto, diciamo saggio di quel tipo, in cui raccontavo un po' il retroscena dell'industria alimentare e dell'agricoltura, è stato Contro Natura, che ho scritto insieme a Beatrice Mottino, che era venuta qua nel 2015. Poi nel 2016 invece ho scritto La scienza della carne, quindi come fare le bistecche e il ragù, perfetto. Poi, vabbè, quando scrivo, poi mi drena le energie, per cui mi rilasso, per cui per tre anni non ho fatto nulla. E adesso, nel 2019, ho detto, vabbè, facciamo quello sulle verdure. Quindi è probabile che il prossimo libro sarà un saggio, diciamo, di quelli che dicevi tu. Perché effettivamente, insomma, è un po' di anni che non... Ho accumulato un sacco di materiale, perché chiaramente, è come tu, no? Come te che fai le storie, i video e così via, nel corso degli anni ti vengono delle idee, prendi degli appunti. Per cui nel corso ormai di tre o quattro anni ho accumulato un sacco di materiale di quel tipo lì. L'hai visti poi a qualche video, no? No, dalle diete bislacche al detox e quelle robe lì. Per cui è probabile che faccia una cosa di questo genere. Però, appunto, adesso mi sto rilassando perché sono stanco. Ascolta, Dario, io è da un anno che non mi ammalo più. Lo dico qua adesso. Però loro lo sanno, arrivavo qua ogni volta, cioè, distrutto, tra viaggi, mica viaggi. Ma non è una roba strana, eh? No, nel senso... Non mi ammalo perché ho preso quella roba lì. Perché io sono due anni che non mi ammalo, non prendo niente, tranno ogni tanto la sera un limoncello, ma non gli darei degli effetti terapeutici. Però io, immaginati, per 46 anni, nel senso, anzi, diciamo, negli ultimi dieci anni, mi sono sempre continuato ad ammalare. Soprattutto da quando sono andato in Inghilterra, ho avuto, secondo me, uno shock. Il clima. Il clima, non riuscivo ad adeguarmi. Poi, continuando a girare, a viaggiare, i bambini, ogni due minuti malati. E quindi ero sempre malato, in continuazione. Ma malato cosa vuol dire? Avevi influenza? Raffreddore, influenza. Ma sempre, in continuazione. Da un anno mi ammalo più. Ti dico cosa ho fatto, però vorrei che tu, come dire... Io non sono un medico, eh, però. No, chimicamente mi dicessi... Allora, ho fatto, ho cambiato due cose. Ho iniziato a fare le docce fredde ogni mattina, seguendo Wim Hof, il metodo Wim Hof, dove ogni mattina mi metto lì di durezza a fare la doccia fredda, per fortificare il fisico. E poi ho iniziato a prendere un, non so se sia un... Dopo te lo faccio vedere, non so se sia un integratore, un robo trovato su internet, ok? No, in realtà, una roba che viene consigliata dagli sportivi, professionisti, quando viaggiano così, una roba... Aprendo la mattina, va disgustoso, basta. Allora, non ho capito se. È un effetto placebo di questa cosa. Io mi sono convinto che non mi ammalo. È dovuto alle docce fredde, è dovuto a questi robi integratori, non so cosa. No, scusa, c'è il mio prossimo figlio che sta arrivando e sta piacendo. Non lo so, secondo te, cioè, quanto è nella mia testa, quanto sarebbe successo uguale, quanto... Allora... Perché ho visto sugli integratori, tu sei andato... Non so cosa hai preso, ma tieni presente che comunque gli integratori A non devono neppure dimostrare l'efficacia prima di essere messi in commercio, per legge, perché non sono dei farmaci. e B sono pensati per persone sane, non per persone ammalate. Ok. Quindi servono per integrare la dieta comune. Quindi di quello dubito molto che abbia avuto... Ok. Dopo, però, c'è una lista infinita di ingredienti dentro. C'è, sì, ma quello... Ma va bene, cioè, se io ti prendo la banana e te la scompongo nelle singole molecole, c'è una roba così, no? E tu dici, oddio, mi sto mangiando tutta sta roba. Qual è il punto? È che noi, come esseri umani, tendiamo a vedere delle coincidenze anche quando non ci sono. Io ti potrei dire, ma da quando è che stai meglio? Non so, un paio d'anni, no? Ma guarda caso, è proprio da un paio d'anni che fai queste chiacchierate qua sul divano. Potrebbe essere stato quello, no? Magari vieni qui e c'è... Respiri l'aria della piscina, oppure sono, non so, qualche cosa delle poltrone. Noi esseri umani abbiamo, per ragioni evolutive, il bisogno di trovare dei collegamenti per capire e darci un senso delle cose che ci accadono. Succedeva, appunto, anche nell'antichità, no? Ma spesso le religioni sono nate così, i miti, per cui tendiamo a vedere delle coincidenze anche quando non ci sono. Perché ci piace convincerci, non ci piace non sapere perché succede una cosa. Il punto è che il corpo umano è una roba estremamente complicata. Non si possono fare esperimenti. Io non posso prendere... Se dovessi fare un esperimento, diciamo, scientifico, con tutti i crismi, dovrei prendere il Monty, clonarlo mille volte, a 500... Gli tocco la roba lì, a 500 gli dobbiamo... Anzi, faccio 250, quello lì con doccia fredda, a quell'altro non gli faccio la doccia, li dovrei far vivere in mille universi paralleli perché devono fare esattamente le stesse cose e poi alla fine devo fare le statistiche, cosa che ovviamente non si può fare. Per cui molti di questi prodotti... È complicato, dici... Cioè, vendono perché tu compri una speranza, una speranza di non star bene. Poi, se per caso ti ammali lo stesso, quella roba lì non lo compri più, ma non vai in giro a pubblicizzare, non avresti mai detto... Invece funziona un po' come il bias del sopravvissuto, tu associ le due cose e dici, ah cavoli, deve essere stata quella roba lì. Oppure può essere che magari per caso c'è dentro un ingrediente che ti mancava e magari no. Ma sai, può essere però tu in due anni magari hai cambiato l'alimentazione, magari sono le docce fredde, non lo so, adesso non sono esperto le docce fredde. però appunto... Me lo chiedevo, me lo chiedevo. Nessuno ti può dare la risposta, cioè la scienza, queste sono quelle cose per cui la scienza non ti può dare una risposta ed è su questa incertezza che si innestano appunto tutta una serie di meccanismi di business, per cui ti direi se tu sei convinto che ti faccia bene ed è buono perché a volte fanno un po' schifo queste cose da mangiare, ma se ti piace va bene, ecco, però magari guarda cosa c'è dentro e se le stesse cose le puoi trovare nella frutta o nella verdura così magari mangiati meglio, mangiati quelle che risparmi o 199 euro al mese. Perché appunto per legge un integratore non può avere un effetto terapeutico, non è un farmaco, è proprio vietato e quindi ecco, vai a vedere l'etichetta di quello che c'è scritto, di sicuro non ti dirà ti evita di ammalarti, no, no, assolutamente. perché è tutto nel cervello nostro, ti dicono è come nei prodotti alimentari normali, non solo integratori, quando tu vai al supermercato e vedi contiene omega 3, non c'è scritto guarda che se prendi questa roba starai meglio di qui di là, c'è scritto solo contiene omega 3, è il tuo cervello visto che ci hanno bombardato per anni, no, che gli omega 3 effettivamente sono utili e così via, o contiene ferro, tu associ nel tuo cervello al ferro è una cosa che fa bene, allora lo prendo. Però nell'etichetta non lo possono scrivere perché non è vero che non ti possono dire guarda tu prendi questa roba qua che si cereali della mattina perché c'è dentro il ferro e tu starai meglio in questa cosa qua. Quindi è tutta una cosa giocata su cosa si aspetta il consumatore e i collegamenti che farà lui che noi non possiamo dire in etichetta per cui se poi dopo si ammala io non gli ho mai detto che non si faccia ammalare. Quindi c'è tutta una parte di psicologia del marketing di questi prodotti che sta aumentando sempre di più va al supermercato sembra quasi essere in farmacia a volte, ci sono prodotti alimentari a cui hanno aggiunto il selenio lo zucca lo iodio ho visto le patate del selenio questa con quest'altro è proprio perché c'è questo desiderio delle persone di migliorare un po' come come viviamo perché viviamo magari male perché siamo stressati mangiamo male cioè quanti hanno il tempo di fare un pranzo come faceva la mia nonna tranquilli magari a casa mangiamo di fretta al bar o prendo un panino veloce è chiaro che tutto questo ci fa a volte dare un po' di malessere non delle malattie per cui cerchiamo di purgare questa nostra vita che non è come dovrebbe essere prendendo degli ingredienti che di fatto li interpretiamo come ingredienti magici speriamo senza cambiare tutto il resto di prendere hai toccato un punto senza cambiare tutto il resto prendiamo quella roba lì continuo a bermi mezzo litro di vino e mangiare la mcdonald e tutto perché cambiare costa fatica il cambiamento l'hai fatto quello delle docce alla mattina quello è un cambiamento io non riuscirei però cambiare abitudini anche piccole abitudini costa fatica per cui quando la pubblicità ti dà la speranza di continui a fare quello che vuoi ti mangi sempre l'empeppata di cozze tutti i giorni sono buoni torte alla crema mangi quello che vuoi e poi prendi la pillolina l'integratorino la caps queste cose e sei a posto e quindi insomma si spiega il boom sull'esperimento sugli esseri umani sarà interessante vedere cosa succede perché sentivo ieri uno speech di Peter Diamandis che è quello del Singularity University così e faceva notare un tot di aziende che in questo momento stanno digitalizzando il corpo per cui io posso fare un digital twin di Dario Bressanini dal punto di vista del DNA proprio fisico e cominciare a vedere delle simulazioni sarà molto interessante e cosa ci fanno poi? io sono molto dubbioso no vabbè c'è cosa ci fanno tutte le previsioni di quali possono essere malattie percentuali diciamo uno scan il più approfondito possibile di quello che può essere il corpo umano cioè l'idea è ad oggi io non so cosa sta succedendo dentro come faccio a sapere cosa sta succedendo dentro e cominciò a scannerizzare il più possibile no? boh insomma c'è un sacco billions and billions da capire che cosa l'idea appunto della medicina personalizzata dell'alimentazione personalizzata è molto affascinante da quello che posso vedere io lato ricerca scientifica perché poi molti di queste aziende ma anche in altri campi si basano su ricerca scientifica che c'è adesso possiamo possono prendere il mio genoma e direttamente andare a vedere quali sono i geni che possono eventualmente influenzare o dammi una predisposizione verso certe malattie eccetera però se uno va a vedere poi i numeri reali vede che per ora a parte casi rari ma che sono noti da tempo di malattie genetiche per esempio però se parliamo genericamente di predisposizione verso qualche cosa che non è una malattia genetica andiamo a vedere che effettivamente si vedono ci sono degli studi che dicono se hai questo gene o questo gruppo di geni hai un po' più di probabilità di incontrare una malattia di sviluppare qualche cosa ma le differenze percentuali di probabilità sono sempre molto piccole cioè se ti dico tu hai il 5% in più di avere qualche cosa invece che un altro cosa te ne fai in pratica per cui c'è molto hype cioè la scienza c'è adesso è ancora molto molto indietro non escludo che fra anche 10 anni 15 anni ci potrà dare delle risposte effettivamente personalizzabili però secondo me adesso nella maggior parte dei casi no mi sembra normale appunto che delle aziende vedono lontano e partono subito però il rischio è di vendere un prodotto che adesso di fatto non c'è non è ancora pronto io ho fatto un po' di tempo fa un test del DNA ecco ho detto dai faccio il test del DNA mi hanno mandato il chittino ho sputtato dentro l'ho rimandato indietro me l'hanno mandato non so a scopo così no no ma qual era lo scopo del test perché ci sono i test che ti trovano le intolleranze quelli che ti dicono se arrivi dai celti o dall'Ucraina questo qua ti dice tutto omnicomprensivo omnicomprensivo paghi di più in base a quanto e io ovviamente ho preso tutto ditemi tutto quello che e cosa hai scoperto su di te un cazzo devo dire non ho scoperto un cazzo e l'ho girato a mia figlia che fa medicina peraltro che l'ha guardato tipo non so due minuti e poi ha detto ma che cos'è questa roba qua e ha detto ma no guarda c'è azienda start up tech ma no questa roba qua e il problema che ho visto però è che tu poi hai questi dati e dici ok derivo dal ceppo celtico fantastico e poi ho una predisposizione alzarmi alle sette del mattino però che operativamente non mi cambia niente ecco e magari mi crea invece un allarme se mi avesse detto ho attenzione che magari può venirti l'alzheimer non lo dicono ovviamente però mi sarei allarmato ti crea magari tra l'altro questo pone anche una serie di problemi etici perché se tu hai una predisposizione ad avere l'alzheimer o ad avere un tipo di tumore o altre cose però poi operativamente ti dicono vabbè hai una predisposizione e cosa fai poi tu ti rovina la vita nel senso che se mi dicessero guarda che tu hai un po' più di probabilità di sviluppare l'alzheimer però non ci posso fare niente perché non si può curare cosa faccio cioè e quindi mi chiedo anche fino a che punto sia etico e insomma andare a dare queste informazioni sensibili quando poi si parla appunto di aumento di probabilità e se poi sia vero o meno diciamo le ricerche scientifiche devono ancora stabilirlo cosa ne fai cioè capisci non sono non siamo ancora arrivati a dire vabbè tu hai questa predisposizione qui però c'è subito un modo per trattarlo non lo so una terapia genica ne so io però no se ti dicono solamente è come se ti dicessero guarda c'è una probabilità del 55% che domani ti fai un incidente in macchina cosa fai tu non esci di casa no però se devi uscire di casa perché devi andare a lavorare in caso sei lì terrorizzato mentre qui vabbè l'esempio è stupido ma cioè a che cosa servono in realtà queste cose cioè io sinceramente non ho interesse a farlo una cosa di questo genere non non mi interessa poi sapere che arrivo dai Celti non lo so arriviamo tutti dall'Africa arriviamo tutti dall'Africa siamo tutti africani è anche un meccanismo se ci pensi come quello delle notifiche tu hai queste app magari per tranquillizzarti rilassarti dormire e poi sono basate sul fatto che ogni due minuti ti arriva la notifica ma sei calmo e cioè è questo strano simoro dove da un lato è giusta la direzione ma la realizzazione poi crea l'effetto contrario a volte un po' quella sensazione lì però sempre Diamandi si diceva attenzione che ci siamo quasi siringhina che fa puff nei capelli e puff ti torna tutti i capelli quello pensavo ciuffo la Elvis non so la prossima intervista non era per buttare giù tutto ma vanno prese con grande cautela no ma ci sono delle cose cioè noi ogni anno ogni mese scopriamo delle cose nuove e dall'analisi genetica noi possiamo già scoprire ma per esempio non so se tu sei intollerante al lattosio non so se tu hai preso il cappuccino prima c'è una certa percentuale di persone che non lo so il mio test del DNA mi ha detto non me l'ha detto l'intolleranza al lattosio che ti fa star male se bevi del latte il cappuccino ed è abbastanza diffusa anzi la maggior parte delle persone al mondo non riesce a metabolizzare il lattosio il lattosio lo spezziamo normalmente quando siamo neonati in glucosio e galattoso in alcune persone questa capacità si perde con lo svezzamento per cui da adulti bevono il latte il lattosio non viene distrutto non viene metabolizzato arriva nell'intestino i batteri se lo mangiano ci fanno star male diarrea e cose di questo genere allora questa è una cosa genetica per cui io ti faccio l'analisi e vedo se tu hai il gene che esprime la proteina che ti fa il lavoro di mangiarti il lattosio oppure no quindi è una cosa che possiamo fare però non tutti quelli che hanno diciamo a cui manca l'enzima stanno male nella stessa maniera alcuni hanno l'enzima non hanno più l'enzima ma per vari motivi perché hanno la flora intestinale diversa eccetera eccetera vivono comunque lo stesso la stessa cosa per la celiachia la celiachia che è una malattia che che ha una base genetica nel senso che tu devi avere un certo tipo di diciamo variante genetica diciamo così e sono quelli che devono assolutamente evitare il glutine che è presente nel frumento è presente in tutta una serie di altri cereali ed è una malattia veramente grave però se faccio le analisi genetiche agli italiani trovo tantissime persone che hanno che hanno la predisposizione alla celiachia ma la predisposizione non vuol dire che ti verrà automaticamente e ancora non si è capito come dalla predisposizione genetica ad alcuni ma una piccola percentuale perché in Italia sono circa l'1% i celiaci mentre questa predisposizione genetica se non ricordo male supera il 20% una cosa di questo genere quindi non si è ancora capito come mai in alcuni anche in età adulta scatta e diventi a questo punto ti si sviluppa la malattia celiaca che ti porta appunto a distruggere i villi intestinali quindi devi l'unica cosa per ora non c'è cura è evitare il glutine per cui vai nei ristoranti senza glutine neanche le piccole tracce tutto il gluten free quindi nel momento in cui ti fanno l'analisi e c'è già ti dicono guarda che tu hai la predisposizione a sviluppare la celiachia tu cosa fai sapendo che quindi su 20 casi uno sviluppa la celiachia e 19 no cosa fai tu decidi già da adesso che non hai la celiachia di evitare il glutine quindi non mangi più pizza non mangi più pane non mangi più niente cioè vivi veramente male allora se tu sei già celiaco sei costretto a fare così ma altrimenti cosa fai lo fai preventivamente però le percentuali giocano cioè ti dicono di non farlo perché solamente una piccola percentuale di quelli predisposti diventerà poi celiaco e non si sa bene perché cioè non è che ti dicono guarda evita di fare questo evita di fare quest'altro perché se no ce lo diventi e quindi cosa cosa te ne fai di una roba di questo genere cioè non è non è non è secondo me la società tutta non si è ancora abbastanza interrogata su sugli effetti che questo tipo di predisposizioni o informazioni genetiche ci possono dare e come poi posso io gestirmene nella mia vita ma pensi che sia in generale il ruolo del medico anche nella società ci ragionavo in questo periodo che ho avuto un po' di casini parenti ospedali robe così e bazzicando gli ospedali mi domandavo è incredibile come un medico arriva e dice non so allora abbiamo visto le analisi e la situazione è questa c'hai sei mesi di vita non so lui il suo mestiere l'ha fatto ma poi tu che cazzo fai cioè nel senso e poi dopo quindi il tema anche dell'informazione di come viene dell'impatto che ha l'informazione per me che il lavoro nella comunicazione è diverso se io ti dico il treno è in ritardo o se ti dico il treno è 20 minuti in ritardo o se ti dico guarda il treno è 20 minuti in ritardo intanto abbiamo predisposto una festa dove puoi mangiare il bignetto cioè è completamente diverso il fatto è uguale ma è totalmente diverso proprio la tua reazione fisica emotiva no infatti quindi io l'ho toccato come molti altri sicuramente con mano quando qualche anno fa mio papà si è abbiamo scoperto che era aveva un tumore all'esofago però all'inizio sai fai delle analisi non sono mai all'inizio non sei sicuro e quindi siamo andati da vari medici perché ovviamente non ti fidi mai del primo ma questo è una cosa abbastanza comune specialmente in questi casi e lì ho visto appunto la differenza alla fine la diagnosi purtroppo è sempre stata quella quindi però il modo con cui ci veniva comunicato e diciamo il modo con cui potevano dire sostanzialmente guarda c'è poco da fare però diciamo qualcuno ha detto vabbè cercate di rendere non sappiamo quando però a breve magari può essere sei mesi un anno due anni fate delle cose per alleviare al meglio il percorso in altri casi hanno detto è così può pagare l'onorario alla segretaria fuori e ciao arrivederci quindi l'informazione come dici tu è la stessa la modalità la modalità è tutto il lato umano che noi pretendiamo io lo pretendo da un medico cioè un medico non è uno scienziato è un qualcosa perché hai una parte cioè si basa sulla scienza dovrebbe basarsi sulla scienza a parte insomma qualcuno che si mette a vendere zuccherini omeopatici ma insomma però c'è tutta la parte di interazione di costruzione di fiducia e di empatia anche col 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 paziente questo è uno dei motivi per cui la scarsità a volte di empatia dovuto al sistema dovuto al fatto che i medici non hanno il tempo di gestire queste relazioni con i pazienti fanno sì che molto spesso i pazienti magari quelli disperati vanno e sono preda di ciarlatani che gli promettono di curare il cancro con il bicarbonato o con la candeggina o roba di questo genere perché? perché ti offrono una speranza ti offrono una fiducia che tu non meriti ma gliela vendi per cui gli aspetti diciamo relazionari empatici sono estremamente importanti e purtroppo non sempre ci sono io metterei d'obbligo nelle scuole sin dall'elementare due materie imprenditoria ma non perché io voglia che tutti diventino imprenditori ma solamente per darti un'idea insomma di cosa vuol dire gestirti una roba se vuoi un giorno se vuoi se devi visto che il lavoro sarà sempre più problematico almeno sai quantomeno come cavartela per i fatti tuoi e lezioni di empatia peraltro mi sembra che Malcolm Gladwell parlasse di questi esperimenti che stanno facendo in realtà virtuale dove io ti metto un visore e tu sei nei panni dell'altra persona per sviluppare un'empatia magari dici a me stanno sui coglioni capito quelli pelati ti metto e tu sei pelato no e vedi la vedi dal suo punto di vista questo è fondamentale perché se no alla fine dei conti c'è un rapporto molto arido l'altra cosa sai che a me infastidisce di questa vicenda di come viene trasmessa l'informazione in generale non solo da parte dei medici ma da parte anche di chi vende prodotti di vario tipo è questa totale sicurezza io non sono mai sicuro di niente e allora è come se io ti dicessi Dario guarda la tua strategia digital è questa sì sì è vero fino ad oggi in base alle mie competenze ma magari domattina esce TikTok 2 la vendetta e il mondo si sposta interamente lì e ti ho detto una serie di cazzate fino a quel momento erano giuste fino a quel momento e allora questa certezza di dire guarda è così fine è così fine sì fino ad oggi e poi magari qualcosa succede dall'altro lato c'è il problema della speranza che qual è il ruolo della speranza in questi casi non so è complesso è un argomento che mi sta mi sta frullando in testa ultimamente sì è una cosa su cui ho appunto riflettuto anch'io specialmente in campo medico questo ha dei lati positivi e dei lati negativi perché cioè il fatto che noi comunque vediamo spesso andiamo da un medico per per mettere la nostra vita o quella di un nostro caro nelle sue mani per cui non riusciamo ad accettare il fatto che ti dica guarda potresti avere così però potrebbe anche non essere così la ricerca scientifica su questo campo non è non è sicura che sono tutte cose diciamo dimostrate no noi vogliamo andare da qualcuno che ci dà la risposta cioè è un qualche cosa che io pretendo no umanamente perché ti metto cioè mi devi operare dal cuore cavoli devi essere sicuro al cento per cento no non accetterai qualcuno che dice ma sì potremmo operare al cuore ma come potremmo no cioè e quindi il medico per questo dicevo prima che non è uno scienziato perché da un lato ha bisogno di questa figura diciamo quasi sciamani no tu ti devi fidare di lui no non puoi mettere in dubbio la sua la sua autorevolezza e la sua autorità ovviamente gli dai la vita nelle tue mani nelle sue mani dall'altro però può portare delle strutture perché nel momento in cui qualcuno questo vale per il medico ma vale anche per altre professioni tipo sanitario vale per il farmacista vale per il nutrizionista il dietista cioè via via andando a scendere diciamo di gravità dei siti per cui ti rivolgi però nel momento in cui noi abbiamo anche per cultura una fiducia così incondizionata verso chiunque mette il camice bianco abbiamo anche delle strutture non a caso le pubblicità spesso di cose a volte anche inutili ma certo è un classico 34 medici dentisti hanno detto che c'è sempre il camice bianco perché ti dà autorevolezza e questo però ci pone anche nel problema che noi cittadini abbiamo lì 10 persone col camice bianco magari una di queste magari una su 100 una su 1000 partita per la tangente ti mette ti si spaccia delle cose che non sono diciamo scientificamente sensate però tu ti fidi lo stesso e questo è una delle cause del proliferare delle pseudomedicine delle diete bislacche basate su gruppi sanguigni o cose o cose che sono equivalenti dell'astrologia dal punto di vista scientifico però le persone si fidano e io non riesco a come fanno magari ti verrebbe naturale a prendere in giro le persone che si sono affidate a qualcuno perché ti hanno detto guarda riesco a curare il cancro di tuo figlio con la candeggina o col bicarbonato io dico cavolo è una cazzata ovviamente però che ne sa lui cioè si è fidato di una persona vuole speranza per cui mi fa veramente è un problema però ovviamente noi non possiamo mettere in dubbio l'autorevolezza di chi ci deve curare però non so come se ne esce da questa cosa di recente su questo argomento ed intorni ho sentito Richard Dawkins che lui invece è uno di quelli ha sparato a zero ha sparato a zero sulla religione quello è un suo vecchio che è un suo classico però ha avuto questa formula secondo me che deve far molto riflettere chiunque sia religioso ha detto tutti sono atei uno dice perché sono tutti atei perché tu non credi al 99% delle altre religioni ci sono migliaia di religioni per cui tu credi nella tua religione ma non credi in quella che dice che Thor viene giù col martello quindi sei ateo rispetto agli altri e poi vabbè ha sparato a zero sull'omeopatia dicendo tra l'altro ho un'osservazione interessante perché diceva l'omeopatia non è che non funzioni non ha il principio attivo per cui possa funzionare ma loro possono mentre un medico non può vendere ufficialmente un effetto placebo loro possono vendere l'effetto placebo questo era un po' il suo ragionamento ecco sì 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 in modo molto dockinsiano l'ha detto secco beh in Italia ci sono tantissimi medici che prescrivono prodotti omeopatici l'ordine dei medici ha rivendicato appunto il concetto che l'omeopatia deve essere diciamo comunque prescritta e gestita da da un medico io voglio sperare che davvero in molti casi in cui un medico quindi che si è laureato che ha fatto l'esame di chimica che ha fatto l'esame che sa che dentro lì non c'è niente che possa avere un effetto fisiologico spero che lo faccia in questa maniera cioè con questo intento cioè di dare una sorta di effetto scatenare un effetto placebo che non ti guarisce ma magari ti fa sentir meglio perché ti senti senti curato nei suoi nei suoi pazienti c'è da dire che per esempio anche gli integratori possono avere esattamente lo stesso effetto placebo cioè non vedo perché un medico adesso con tutte le possibilità che ha di dare un qualche cosa che diciamo non ha un'efficacia terapeutica ma può far star bene il paziente deve per forza dare una roba che però a livello a livello diciamo diciamo globale è dimostrata essere nulla per cui vuoi fare contento il tuo paziente che è venuto lì per tre giorni di seguito che dice c'ha qualche malesse tu hai capito bene che è una cosa o psicosomatica oppure di altro tipo non dagli l'omeopatia cioè non contribuire a dare l'idea che ci siano davvero dei farmaci dentro lì se vuoi scatenare una sorta di effetto placebo ma digli prenditi un po' di vitamina C non lo so prenditi un integrato prenditi una spremuta cioè dagli qualche cosa che lo soddisfi dal punto di vista della risposta ma non contribuire all'idea che lì le pillole omeopatiche abbiano un effetto terapeutico perché sennò poi è un serpente che si morde che si morde la coda dall'altro lato se poi uno ha il risultato prendi il mio caso di doccette fredde e pappettina verde io se me le togli dico cazzo no poi mi ammallo capito e quindi sono è come lo sportivo che magari prima di entrare in campo l'allenatore dice guarda io avevo un allenatore che pensa ti racconta questa storia assura che è proprio il classico esempio c'era un periodo che arrivavo verso giocavo un incontro e poi arrivavo magari a ping pong 20 pari magari così perdevo sempre ero sempre teso allora il mio allenatore una volta arrivò che era molto saggio disse guarda prima di entrare in campo prendi questo messo dentro delle gocce contro la paura ok io avevo non so 12 anni e quindi bevevo questo gioco il primo incontro e vinco e dico cazzo a posto cioè la paura è andata via e da quel momento in poi prendevo sempre questo poi lui me l'ha detto tipo dopo 5 anni che non c'era dentro niente però io ero andavo nel panico cazzo non c'ho adesso il mio beverone come faccio però insomma è tutto collegato ed è è un mondo per me interessante legato proprio a come comunichi le cose come le percepiamo sai cosa c'è anche che parlando appunto di omeopatia ma vale anche per altre per altre diciamo di queste cose che ti scatenano questo effetto le persone molte persone non sono disposte ad accettare l'idea che è il cervello che ti fa star meglio no cioè se tu c'hai un'infezione batterica non c'è pillola che non c'è effetto placebo che che tenga no c'hai l'infezione batterica ti devi curare no se ti sei se hai una ferita devi però per certe cose ci fa stare un po' meglio è un effetto è un effetto diciamo è un effetto del cervello però le persone quando gli dici che è un effetto del cervello si incavolano io l'ho visto tutte le volte che spiego nei miei video nelle conferenze vieni a vedere i commenti anche a questo video quando assolutamente perché non accettano l'idea che non ci sia una causa fisica cioè è come dire ah ma mi stai dicendo che io mi sto inventando tutto che è solo il cervello in realtà non è non è un prendere sotto gamba il cervello anzi è dire guarda che il tuo cervello così come riesce a farti star bene farti sentire bene in alcune case in alcune case è anche la causa di alcuni tuoi problemi quindi se tu prendi consapevolezza che non esiste è inutile che cerchi una causa fisica no a volte c'è un problema di altro tipo vai a cercarlo ecco però la gente si incazza cioè alcuni si incavolano e non accettano l'idea per questo che anche gli omeopati si inventano delle teorie senza senza così base scientifica tipo la memoria dell'acqua le vibrazioni quantiche la meccanica quantistica a profusione per dare l'idea che ci sia davvero un qualche effetto fisico che non è tutto nel cervello perché non riescono non riescono molte persone ad accettarla questa cosa come spieghi Dario il fatto che oggi abbiamo comunque un livello scientifico che è avanzato enormemente abbiamo un sacco di strumenti di di dati di numeri e dall'altro lato il livello di diciamo di ignoranza sulle materie o la facilità di manipolazione delle persone su qualunque argomento se uno sa un minimo comunicare tu puoi convincere che la terra sia piatta io sono mai convinto che la terra sia piatta perché cioè in due minuti lo leggo quindi cioè puoi convincere le persone di qualunque cosa di fatto nonostante i dati nonostante le evidenze le prove peraltro appunto pensavo a come si chiama Bernie Madoff che voglio dire è riuscito a fare una truffa su alcune delle persone più ricche e più strutturate del mondo per 25 anni e dici ma com'è possibile proprio così inventando da zero semplicemente lavorando sulle sue capacità di truffa però come spieghi il fatto e come si può fare per evitare che che così i fatti o quello che che magari è è proprio evidente che poi magari cambia e evolve ma in quel momento è evidente non venga sottovalutato e ci sia sempre invece un'altra possibile spiegazione allora le cose te l'ho chiesta male però no no ma ho capito allora la questione è complicata ed è abbastanza studiata cioè negli studi per esempio di comunicazione della scienza ma vale anche in altri campi ci sono varie varie risposte allora è assodato che i dati da solo i numeri da soli non convincono le persone questo è un dato di fatto poi ci possiamo chiedere perché siamo fatti così ma è il motivo per cui semplicemente snocciolare i dati di sicure esempio banale no un sacco di persone ha paura di volare però vai a vedere le statistiche rischi di più andando in autostrada ecco ma anche se gli dici questi numeri la paura rimane quindi ci sono delle reazioni emotive che i numeri semplicemente non riescono a scalfire questa è una cosa che è ormai assodata se tu ci pensi nel corso della giornata tu assumi un sacco di informazione da più punti di vista cose diverse in quasi nessuno di quei campi sei un esperto e quindi ti devi fidare per forza cioè noi non possiamo mettere in dubbio tutto quello che scopriamo che veniamo a sentire durante la giornata quindi a un certo punto c'è un effetto di fiducia cioè tu ti fidi tu Montemagno ti fidi di un giornale particolare che l'acqua non sia avvelenata cioè ti fidi delle persone per esempio questa è una cosa che funziona tantissimo ed è alla base ormai dell'influencer marketing perché le aziende investono miliardate di soldi in Instagram direttamente da persone prima le celebrities ma adesso le influencer o comunque o influencer persone che magari sono nate dal nulla che non sono esperte perché si è creato un rapporto di fiducia per cui se quella persona ti dice guarda io compro questo sapone per pulire casa oh guarda avete visto la mia casa avete visto ieri la zia è venuta la gente va a comprare perché ti fidi e questo quindi è un qualche cosa che funziona sia per il sapone che compri e questa è una cosa che la pubblicità ha scoperto molto prima degli studi di comunicazione della scienza sia anche per cose più che possono influenzare tipo i vaccini tipo cose molto cioè non so gli OGM tipo il scaldamento climatico e così via cioè i numeri da soli non ti convincono devi prima instaurare un rapporto di fiducia e poi riuscire a ottenere così il risultato cioè io un paio di anni fa ero negli Stati Uniti a un convegno e c'è stato uno speech una conferenza di un alto funzionario dell'OMS era andato in Africa non mi ricordo in quale paese perché c'era un'epidemia di un virus mortale quindi arriva qui arrivano appunto tu immagina il villaggio africano proprio ancora sperduto arrivano questi qua dell'OMS ancora che sembrano dei marziani e loro lui diceva noi siamo arrivati lì e volevamo vaccinare le persone perché gli abbiamo spiegato che c'era il rischio anche di morire e questi invece si rifiutavano avevano paura a un certo punto dice io funzionario dell'OMS sono andato dal capo del villaggio dal saggio e gli ho spiegato lui ha capito benissimo il problema e mi dice guarda voi siete bianchi arrivati qui super tecnologici maschere bianche le persone del mio villaggio non si faranno mai vaccinare hanno paura e quindi io capo dell'OMS della delegazione ho detto cosa dobbiamo fare e lui dice guarda dobbiamo fare un sacrificio un sacrificio dobbiamo sacrificare una capra o qualche cosa dobbiamo fare un sacrificio agli dei e poi vedrai che quindi loro con me di fianco ovviamente che faccio da garante ti ascolteranno e quindi lui diceva cavoli io a me sono scienza genomi vaccini super tecnologici mi sono trovato nell'esigenza di banalmente chiedere il finanziamento perché dovevo pagarla questa cosa poi era un poche migliaia abbiamo dovuto organizzare tutto il sacrificio e lui lo raccontava lì nella conferenza diceva poi io l'ho fatta questa cosa qua perché a me dell'OMS mi interessa che poi la gente sia vaccinata se mi serve anche usare queste tecniche diciamo poco ortodosse per raggiungere le persone ma cavoli ma lo faccio e quindi ha detto organizziamo sto sacrificio con la capra o quello che era poi mangiamo facciamo i nostri riti e poi la gente di quel villaggio si è vaccinata tutta capisci quindi che se tu vai in una situazione questo è il caso estremo ma di ostilità preconcetta non ci sono numeri che tengano nel momento in cui ti dicono facciamo il sacrificio umano poi la gente si vaccina e allora la gente si è vaccinata e quindi sempre quando si ha a che fare con le emozioni con dei rapporti umani dei rapporti di fiducia i numeri da soli non funzionano e questo è una cosa che ormai nella comunicazione della scienza specialmente in campi per esempio in campi dell'inquinamento di medicina di malattie così si deve tenere in conto perché se tu il risultato è che vuoi vaccinare i bambini se il risultato è che vuoi cercare di muoverti verso una società che consuma meno combustibili fossili per quel che riguarda il riscaldamento globale e così via non ti basta fare la lezioncina da universitario Dario sei sempre precisissimo sono contento di averti upgradato dalle scale delle scale di Gaio Lenti ma sai che ancora adesso gente che mi scrive dice ma perché non vai da Monti guarda che ci sono già stati solo che non ero nello studio ero sui gradini con la gente che passava vi ho parlato di acqua ti ricordi di acqua per l'amore dei nostri haters era grande bocca al lupo per tutto va bene grazie mille bocca al lupo per il tuo libro grande